questo olio Sergio è fumato ma si può sapere cosa stai facendo stiamo sbagliando tutto Sergio ma non abbiamo guardato i minuti noi andiamo a occhio due ore dopo non lo senti duro e noi siamo pronti per la prossima creation folettine folettine voglio proprio vedere ma io mi sento che sta lambendo le pareti verrà male guarda il lambo che è laggiù questo è un primo tentativo allora cosa abbiamo fatto abbiamo comprato della candeggina al discount esatto perché tutto sommato attenzione alla forma ergonomica esatto perché a noi serviva più che altro la forma si la forma è stato lo step più complicato dopo abbiamo acquistato come si chiama questo materiale ma non diciamolo che poi ci copiano comunque un materiale che dovrebbe indurire esatto auto ci pego esatto quindi l'abbiamo mescolato abbiamo fatto la misticanza esatto senza grumi acqua e polvere ma non diciamo neanche quali dosi siamo vaghi dopodiché l'abbiamo rimesso nella candeggina contenitor esatto e adesso dovremmo aspettare minuti che mi si cementifica la mano insieme a questa plastica esatto e dovrebbe cementificarsi anche secondo le istruzioni esatto dopodiché una volta che sarà cementificata dovremmo passare allo step numero due che sarà successivo che sarà quello di dove vai lo step numero due sarà quello di fare il gesso e con il gesso poi dovremmo fare il calco della mano ma poi questo sarà un passaggio questo sarà dopo il diecivo tentativo che riusciamo a far la forma giusta sì ma intendo dire che questa cosa qui del calco di gesso è semplicemente un ah è già solida guarda è già solida beh aspetta ancora un attimo sembra silicone eh sì perché è quello che usano i dentisti per fare le impronte è quello di vanigra no beh insomma il calco servirà per una parte una parte di piano di opera di opera d'arte che però chiaramente ancora non possiamo svelare perché no non si potrà è un autunno inverno e beh sì ormai la collezione la collezione 2025 va bene per il momento è tutto ragazzi alla prossima alla prossimo fallimento allora questa è la fermia lo step esatto vai peccato che non possiamo riutilizzare guardala piano eh piano mica di rompere qualche dito no no taglia bisturi 3 2 1 sacco un dito sai che pensavo magari attento a non rompere ci ha avuto il dito sì ecco te l'avevo detto di non rompere il dito l'ho rotto Gilbert adesso dobbiamo metterci un po' di devi fare piano eh ma come devi tagliare l'eccesso perché non era ancora asciuttissimo poi è delicato guarda noi possiamo fare un mutilato di guerra eccola è nata è nata un po' storpia ma è nata è lei è lei girala sono rimasta attaccata le dita lì 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 vabbè magari con una limetta andiamo dentro e quindi questo dovrebbe essere adesso lo attacchiamo è presente i gunis? se c'è chi è venuta a cadere al contrario se io ce lo facciamo così ci facciamo tutti quanti faccia l'euro Grazie a tutti. Grazie a tutti.